Buongiorno, buonasera a tutti e con il ritorno dell'estate e la fine del lavoro a scuola finalmente con punto di vista di regaliamo il tempo di riprendere il filo e proporvi qualche video un pochino più strutturato, un pochino più complesso, anche perché è arrivato un anniversario che è passato assolutamente in sordina, non ho visto la minima commemorazione o citazione nemmeno sui social ed è un peccato, sono oggi 4 luglio, vent'anni dalla morte di Armin Moller. Armin Moller, figura che a qualcuno magari questo nome dice qualcosa, almeno ne ha detto i lavori, è stato da una parte a livello politico il capofila della neue rechte, cioè della nuova destra tedesca, tra l'altro nato nel 40 e quindi precursore per pochi anni anche di una figura come Alain de Benoit in Francia. Ma soprattutto a livello filosofico o meglio storico filosofico è l'autore di questo libro che vi proporremo oggi, di Conservative Revolution in Deutschland, che è sostanzialmente il testo che dall'inizio allo studio della Revoluzione conservatrice tedesca come una vera e propria corrente di pensiero, come un fenomeno strutturato con le sue correnti, con le sue idee, ben distinto al nazionalsocialismo. Dopo quest'opera è nato tutto un dibattito storiografico di cui mi sono occupato, di cui mi sto ancora occupando, ma di cui Armin Moller è stato, come vedremo ora, l'iniziatore. Prima di tutto vediamo un po' la vita di Armin Moller, che a rispetto del nome non era tedesco, era in realtà della Svizzera tedesca, nato a Basilea il 12 aprile 1920, secondo genito di un impiegato delle ferrovie, aveva iniziato a studiare filosofia, storia dell'arte, sempre all'Università di Basilea. Inizialmente la giovane aveva posizioni di sinistra vicine al trotschismo, pacifiste nei confronti della guerra mondiale che stava scoppiando proprio in quegli anni. Tuttavia la lettura di autori proprio legati alla Revoluzione conservatrice, come Spengler, come Nietzsche, come Junger, come il primo Thomas Mann, fecero sì che le sue idee cambiarono, infatti lui era stato arruolato dall'esercito svizzero, che negli anni della guerra aveva compiuto una vera e propria mobilitazione per difendersi da eventuali aggressioni. Tuttavia lui, dopo l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, aveva deciso a questo punto di schierarsi con il Reich, per cui nel febbraio del 1942 aveva disertato, aveva attraversato il confine e in Germania aveva cercato di arruolarsi nelle Waffen SS per combattere contro il comunismo. Tuttavia era stato respinto, quindi lui era ritornato in Svizzera, era stato arrestato, fece cinque mesi di carcere per abbandono del posto, quindi diserzione sostanzialmente, poi proseguì i suoi studi e in particolare arrivò a discutere la sua tesi di dottorato nel 1949 con Carly Aspers, grande filosofo che insegnava appunto Basilea, e questa tesi di dottorato era proprio sulla rivoluzione conservatrice in Germania, per cui sarebbe poi diventato questo libro, cresciuto poi nel corso delle revisioni, delle ristampe, nuove edizioni, e nel 1949 appunto diventò per quattro anni il segretario privato di Ernst Jung, principali figure della rivoluzione conservatrice, vivendo in una stanza della sua casa di Wilflingen e poi intraprese la carriera giornalistica, in particolare fu per otto anni dal 53 al 61 a Parigi come corrispondente straniero per diversi giornali, poi tornò a Monaco di Baviera dove iniziò a lavorare per la fondazione Siemens fino al suo pensionamento nell'85, ottenne anche il premio Adenauer per il suo lavoro come giornalista nel 67 e al tempo stesso però mantenne un forte interesse per la politica tanto nazionalista, quindi tanto il versante più radicale, quanto quello più conservatore, più moderato, infatti durante il suo soggiorno a Parigi fu vicino al gollismo, poi a Monaco di Baviera sostenne l'unione cristiano-sociale di Franz Josef Strauss, più avanti anche di Republikaner, che erano questo gruppo di destra tedesca distinto dal neonazismo ma su posizioni abbastanza radicali. e poi in Francia conobbe anche l'esperienza Nouvelle Dura francese, quindi soprattutto negli anni Ottanta si impegnò per diffondere in Germania il pensiero di Alain de Benoistre. Infatti c'è una citazione che trovo molto interessante anche per comprendere il suo pensiero e che poi discuteremo. In un'intervista negli anni Novanta gli chiesero, in maniera molto avrucciapelo, se lui fosse fascista e lui rispose e ha insinne con José Antonio Primo de Rivera, cioè nel senso di José Antonio Primo de Rivera. E a questo punto l'interlocutore, ma quindi il fondatore della falange spagnola che aiutò Franco a stabilire la sua dittatura e quindi cosa significa per lei il fascismo? E lui rispose con una citazione che trovate proprio in esergo a questo video il fascismo per me è quando liberali disillusi e socialisti disillusi si incontrano per qualcosa di nuovo da cui nasce quello che si chiama rivoluzione conservatrice intervista del 95 al Leipzig Erfolgszeitung e morì infine il 4 luglio del 2003 a Monaco vent'anni fa esatti questo libro, come abbiamo detto, è un grande classico ormai ed è per questo che ne parliamo qui abbiamo quella che è la sesta edizione pubblicata dalle edizioni Ares di Vienna Ares Verlag ed è così enorme soprattutto se noi lo confrontiamo con la traduzione italiana la traduzione italiana è del 1990 per la roccia di Erec quindi casa editrice legata all'esperienza nuova l'estra italiana però manca di tutta una parte fondamentale manca la bibliografia perché se noi andiamo a vedere questo libro andiamo a vedere qua l'indice del testo notiamo che di tutte queste pagine il libro arriva sostanzialmente alle così qua siamo quasi 700 pagine sostanzialmente 650 abbondanti compresi gli indici ma il libro vero e proprio diciamo la parte narrativa si ferma a pagina 200 o poco più quindi abbiamo tutta una parte che comunque è importante perché è la tesi di Möller quindi lui inizia con una prima parte in cui indaga le radici del pensiero tedesco quello che un po' diciamo lui la chiama la Deutsche Sonderbevussain cioè la speciale consapevolezza tedesca e quindi dall'epoca prussiana attraverso il 271 romanticismo Wagner la figura di Nietzsche la figura fondamentale giustamente per la rivoluzione conservatrice tedesca poi parla della Weltkrieg la guerra mondiale come una Kulturkrieg come una guerra culturale così era stata percepita del resto la letteratura tedesca dell'epoca la vedeva come non soltanto diciamo uno scontro a livello politico economico per l'egemonia in Europa tra Germania e Iran-Bretania ma proprio come una vera e propria guerra culturale tra lo spirito la cultura tedesca da una parte e dall'altra quella anglosassone poi parla della rivoluzione conservatrice tratteggiandola come un fenomeno unitario ma diviso in gruppi questa divisione in cinque gruppi è rimasta importante è stata più volte discussa è portata avanti dagli storici e dagli storici a filosofia che sono venuti dopo lui distingue tra i folkish cioè gli etnopopulisti per trovare una traduzione appropriata al termine tedesco folk che ha una duplice matrice sia etnica e raziale ma anche politica quindi popolo come etnia ma anche popolo come demos poi i un conservative cioè i giovani conservatori i nazionali e rivoluzionari il terzo gruppo infine i bundish cioè le leghe diciamo le varie leghe giovanili quindi quei gruppi che discendevano dall'esperienza dei van der Vogel e poi abbiamo la Landvolk cioè il movimento contadino alla fine anni 20 rivolta contro la repubblica di Weimar e infine poi lui discute nell'ultima parte quello che poi è stato lo scontro tra rivoluzione conservatrice poi nazionalsocialismo quindi parla di ambiguità parla di divisioni confronta tra loro Schmitt e Jung che lui era conosciuto tra l'altro quindi ne parlava un po' a ragion veduta e poi da pagina 200 in poi le altre 400-500 pagine di libro sono una ricchissima bibliografia ragionata e critica su tutto quello che riguarda la rivoluzione conservatrice quindi è veramente notevole perché poi vediamo che comprende non soltanto diciamo il discorso generale ma poi comprende anche ovviamente la letteratura sui concetti principali quindi sull'imperialismo tedesco sul fascismo sulla politica di massa sul vitalismo a livello filosofico le opere e la letteratura secondaria sui vari autori quelli più importanti poi gli autori divisi in base agli gruppi lui stesso aveva stabilito addirittura abbiamo sezioni in questa bibliografia per esempio sul trattato di Rapallo sul socialismo tedesco insomma anche sugli aspetti minori se vogliamo e poi anche i libri pubblicati scritti da questi autori autori a parte ovviamente i principali ma abbiamo anche tutti i minori vengono citati elencati libri anche di figure assolutamente sconosciute non solo al grande pubblico ma anche a molti specialisti chiaramente quindi è sicuramente un tesoro da questo punto di vista perché è un'opera che non può mancare per chi si occupa anche soltanto in maniera superficiale di queste tematiche a livello storiografico rimane a mio parere un'opera imprescindibile naturalmente questo non significa che debba essere presa come vangelo ora lasciando la parte biografia che è sicuramente mantiene per questo testo un valore anche soltanto come opera di riferimento imprescindibile come abbiamo detto ma andando sul contenuto su quelle che sono le tesi l'interpretazione del fenomeno che Mohler sostiene è comunque interessante e infatti poi è stata magari anche contrastata o giudicata negativamente ma comunque chiunque si sia occupato di questo tema ha dovuto poi comunque confrontarsi con Mohler quindi si può anche non essere d'accordo più di tanto sulla divisione in gruppi che lui ha fatto io stesso ritengo che un fenomeno relativamente minore come l'Handfolk non abbia la stessa importanza la stessa rilevanza di una categoria ampia come quella dei giovani conservatori che abbraccia un po' tutta la destra della riluzione conservatrice che a sua volta possiamo distinguere in altri gruppi circoli minori e tra loro anche abbastanza diversi siamo al contrasto tra lo Uniclub a Berlino e invece il circolo viennese legato a Ottmar Spahn così come va notato che Mohler avendo posizioni dal punto di vista religioso legate comunque a una ripresa del paganesimo qui anche diciamo suo apprezzamento per Alain de Benoist quindi è chiaro che tende a sottolineare l'importanza di un autore come Nice e quindi a parlare però un po' meno invece di quelle che sono le radici anche cattoliche del mondo riluzionario conservatore all'interno del quale poi c'è anche una polemica però abbastanza pace sia tra pagani e cristiani sia tra la Germania luterana e la Germania cattolica così come inoltre questo è un po' il punto che ci interessa diciamo il punto anche cruciale perché poi di fatto la risposta alla domanda che un po' tutti si fanno quando si parla di riluzione conservatrice si cerca di distinguere la riluzione conservatrice di darle un profilo unitario infatti una critica mi fu mossa in università in sede di discussione di un colloquio proprio su questo tema fu sì va bene ma questa riluzione conservatrice che cos'è ha una sua fisionomia ben chiara e in particolare come si rapporta come si distingue se si distingue dal nazionalsocialismo cioè dal regime itleriano e dal movimento ovviamente che l'ha preceduto e Mohler vede questi autori come sostanzialmente un po' una coscienza infelice del regime nazionalsocialista addirittura lui li considera e sua questa fortunata denominazione i trotschisti del nazionalsocialismo quindi così come i trotschisti avevano appoggiato ovviamente la rivoluzione bolshevica poi si erano trovati a essere perseguitati dal regime di Stalin allo stesso modo i rivoluzionari conservatori avevano ovviamente sostenuto una rivoluzione nazionale in Germania per poi trovarsi però in una situazione critica di repressione o di emarginazione o comunque di insoddisfazione perché anche una figura come Schmidt o una figura come Heidegger e Heidegger attenzione è un po' uno dei grandi assenti perché effettivamente Heidegger ha anche tutta una dimensione filosofica che esce dai limiti della rivoluzione conservatrice però resta una figura che non può essere distaccata da essa non ultimo per i suoi rapporti anche amicali e di dialogo con Schmidt e Juncker quindi tuttavia al di là di questa posizione tra l'altro posizione criticata sia diciamo la virgoletta della sinistra da chi invece ha sostenuto che la rivoluzione conservatrice fosse strettamente legata al nazionalsocialismo e che quindi Möller compisse un'operazione un po' disonesta e molto interessata nel voler creare una sorta di fascismo buono diciamo così distinto dalla politica di Hitler e quindi sostanzialmente innocente rispetto alle colpe di cui si era macchiato il nazionalsocialismo e dall'altra anche da destra tra virgolette c'è chi invece ha accusato questa posizione ovviamente cambiando di senso dicendo no ovviamente il nazionalsocialismo è un fenomeno positivo infatti questi autori ne hanno fatto parte e quindi è sbagliato cercare di staccarli per rifarsi una sorta di virginità politica quindi su questo marxisti e neonazisti sono trovati d'accordo ecco questo non toglie però che quest'opera sia una lettura imprescindibile proprio perché di fatto ha dato vita ha evocato questo profilo della evoluzione conservatrice termine in realtà già utilizzato anche negli anni precedenti alla guerra e anche con un riferimento vago ma sempre mirato a questi ambienti tuttavia è Moller che fornisce a questo concetto un valore storiografico e filosofico che rimane tuttora valido se non altro come oggetto di discussione ma via al di là dei toni polemici è innegabile che l'opera di Moller abbia un valore non soltanto storiografico ma anche politico e per spiegare questo dobbiamo ritornare a quella citazione che abbiamo affrontato prima perché in Germania il termine fascismus viene usato in genere come sinonimo di nazionalsocialismo anche se all'epoca in realtà fascismo negli ambienti nazionalsocialisti è considerata un po' una parolaccia perché era considerato sostanzialmente una parola legata al regime di Mussolini quindi legata alla prospettiva romana cattolica stato idocentrica poco interessata alla questione raziale e quindi vista in maniera negativa da un movimento che invece era fortemente germanocentrico con toni anticristiani e paganeggianti in cui la razza era fondamentale e quindi gli italiani in quanto mediterranei si trovavano già su un gradino minore rispetto agli ariani germanici e invece Mohler riprende proprio questo termine in senso positivo dicendo che lui si sia fascista però nel senso italiano e spagnolo di José Antonio o di Mussolini quindi in un senso fortemente distinto da quello tedesco italiano tant'è vero che poi quando lui vuole spiegare cosa significa per lui il fascismo lui lo vede subito come un movimento sincretistico un movimento sincretistico con liberali socialisti disillusi che sono resi conto che le loro ideologie hanno delle pecche evidenti che non funzionano e quindi si uniscono per creare qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo è una vera e propria rivoluzione conservatrice quindi sostanzialmente è una visione del fascismo prettamente ideologica teoretica che prescinde dall'aspetto pratico prescinde da aspetti come l'anticomunismo come il razzismo ma si concentra piuttosto sul fascismo come nuova ideologia di sintesi creativa sul piano politico e questo è molto importante tra l'altro in italiano è stato tradotto l'unica altra opera mi pare di Moller tradotta nella nostra lingua lo stile del fascismo è un librettino di 80 pagine pubblicato in 87 dal settimo sigillo in cui spiega cosa intende in maniera più se vogliamo più estetica che non politica ricordiamoci ricordiamoci del resto che Moller aveva condotto studi storico-artistici letterari filosofici ma non era essenzialmente un politologo men che meno un giurista e quindi questo è il senso che Moller attribuisce al fascismo e quindi anche la evoluzione conservatrice in questo senso rappresenta il come per Moller un esempio positivo un modello di pensiero un modello di pensiero pluralista in realtà perché contiene al suo interno tutta una serie di autori a cui attingere da Spengler Schmitt anche Haushofer Georg Nikisch il Thomas Mann delle considerazioni di un impolitico quando è ancora posizioni fortemente conservatrici insomma tutto un patrimonio culturale politico intellettuale a cui la destra tedesca era voluto attingere infatti lui rimane molto attivo anzi possiamo dire che tutta la nuova destra tedesca sia in qualche modo opera di Moller il quale per tutta la vita porta avanti un percorso anche contraddittorio per certi versi ma è una è contraddittorio perché è la stessa situazione a nuova destra tedesca è contraddittoria perché si trova schiacciata da una parte dai vari gruppuscoli esplicitamente neonazisti nostalgici radicali antisemiti incline alla violenza che la nuova destra tedesca ritiene sostanzialmente fallimentari e problematici anche in termini ovviamente di agibilità politica dall'altra nuova destra tedesca pur cercando di portare avanti dei radicali cerca però di traghettare queste idee di inserirsi in un ambito conservatore più accettabile con una maggiore agibilità politica quindi anche i rapporti con il gollismo per esempio pensiamo anche a Nouveau-Drois francese cosiddetta negli anni 80 quando De Benoît pubblicava e scriveva sulle Figaro per esempio che è un giornale francese liberale conservatore ad altissima tiratura o ancora i legami di Moller con i cristiano sociali bavaresi quindi rimane una corrente che non ha mai avuto diciamo quello che è stata l'influenza del Gresse in Francia o anche in Italia del gruppo legato a Marco Tarchi e tra l'altro due esperienze quella francese e quella italiana che hanno sempre rifiutato l'etichetta di nuova destra ritenendola comunque problematica e anzi assolutamente forbiante mentre in Germania tendenzialmente Moller e anche i suoi collaboratori sono rimasti più saldamente inseriti nella dialettica destra-sinistra anche per il fatto che in Germania a sinistra c'era non soltanto un vero e proprio regime comunista in una parte di Germania la Repubblica Democratica rispetto a quello francese o a quello italiano quindi sicuramente la linea politica che ha cercato di portare avanti di una riattualizzazione concreta della rivoluzione conservatrice come corrente come modello che lui stesso ha costruito con la sua opera storiografica non ha lasciato in realtà un impatto particolarmente forte per quanto abbia avuto una certa influenza e tuttavia rimane sicuramente quello di questo libro un contributo assolutamente lodevole e che ha lasciato il segno all'ilà di quello che è il progetto politico che Moller ha cercato di costruire in conclusione quindi dopo aver tracciato e anche discusso se vogliamo quella che è l'importanza storiografica di quest'opera ma anche l'importanza politica che ha avuto che ha cercato di avere in un certo senso mi sento di non soltanto consigliare ma anzi prescrivere a tutti l'acquisto di questo testo e in particolare a mio parere l'edizione italiana è imperdonabile nella misura in cui è priva di questo monumentale apparato bibliografico naturalmente mi rendo anche conto che avrebbe comportato dei costi di traduzione di stampa molto maggiori e non necessariamente paganti in termini poi di vendita di diffusione perché effettivamente un'opera di queste dimensioni potrebbe anche spaventare l'acquirente io però ritengo che sia utilissimo avere qua quello che potete vedere pagine e pagine bibliografia naturalmente sarebbe opportuno conoscere la lingua tedesca ma diciamo che la bibliografia si può consultare anche avendone come nel mio caso una conoscenza abbastanza sommaria ecco mi sono ripromesso di approfondire la lingua tedesca che è quasi imbarazzante e io occupandomi da anni di questi autori non ne abbia una conoscenza avanzata ma comunque intermedia in grado sicuramente di affrontare la lettura con una certa fatica di questi testi o appunto di sopravvivere in terra tedesca e anche la parte di testo con i 200 pagine che componevano la tesi di Mohler sono sicuramente degne di attenzione e di discussione quindi se volete procurarvi oggi con Amazon è molto più facile o meglio ancora se volete evitare di rivolgervi alla grande distribuzione multinazionale e contattare direttamente la casa editrice che lo pubblica l'Ares Verlach di Vienna tanto di guadagnato io avevo comprato questa e altre coppie poi trasmesse a vari amici ordinandole in libreria durante un dimesso giorni di studio in Germania ma oggi possiamo benissimo ordinarle tramite internet e ricevere a casa nostra un'opera sicuramente impegnativa ma tutte le cose belle sono impegnative e sicuramente molto consigliata quindi speriamo di vederci presto a un prossimo video di Punte Virga un po' più disteso su cui affrontare un'altra tematica interessante per questo pubblico di Punte Virga di Punte Virga di Punte Virga Grazie.